Tra i grandi nomi dell'atletica non può sicuramente mancare quello di Sara Simeoni. Primatista mondiale del salto in alto con la misura di due metri e un centimetro. Record stabilito per due volte nel 1978. 14 volte campionessa nazionale e detentrice del primato italiano di salto in alto per 36 anni.